Quinta giornata di ritorno del campionato di eccellenza regionale ha visto di fronte allo stadio comunale Vestrelli di Castiglion della Valle, il Villa Biagio in blu e gli ospiti dell'Angelana in completo bianco. Partono forti i locali e dal quinto vanno vicino al vantaggio con il cross di Bura. La difesa Angelana mette in angolo. Al dodicesimo Sorci ci prova da fuori area. La palla rimbalza davanti a Di Prisco che riesce a mettere in angolo. Al quindicesimo su cross dalla destra di Catani sul secondo palo Sisani di testa impegna severamente Farinelli che blocca. Arriviamo al ventinovesimo. Bura entra in area. Melillo lo anticipa prima della conclusione. Dall'angolo Tomassini di testa impegna Di Prisco. Poi realizza ma l'arbitro annulla per un fallo in piena area Angelana. Al trentaquattresimo Giuliacci su traversone di Vergaini porta in vantaggio il Villa Biagio con un bel colpo di testa quindi uno a zero per i locali. L'Angelana alza il baricentro alla ricerca del gol del pareggio e ci va vicino al quarantatresimo con Catani prima e con una bella conclusione di Sisani che sfiora la traversa. Tre minuti di recupero concessi dal signor Serica al termine dei quali un buon primo tempo termina con il Ventinella in vantaggio per uno a zero sull'Angelana. Con le riprese ed il montaggio di Matteo Marcella passiamo ad analizzare le fasi più interessanti della ripresa. Che vede partire forte gli ospiti e dal secondo minuto Pica conclude da sottomisura. Farinelli mette in angolo. Al quinto Catani mette in mezzo. Goretti libera di nuovo in angolo un pallone pericolosissimo. Al settimo è sempre un imprendibile Catani che da sottomisura impegna severamente Farinelli. I giallorossi ospiti continuano ad attaccare ma al diciassettesimo Burra si presenta davanti a Di Prisco. La sua conclusione sfiora la base del palo. Due minuti dopo punizione di Sisani. Di Giuseppe va a terra in area. Rigore che lo stesso centravanti realizza. Quindi uno a uno ma locali in dieci per l'espulsione di Goretti. Nei minuti che seguono le emozioni si susseguono da una parte e dall'altra ma di conclusioni pericolose non ne annotiamo fino al quarantatresimo. Quando pica con un bel destro sfiora la traversa. Due minuti dopo lo stesso centravanti si fa a metà campo da solo e realizza il 2 a 1 ospite. Quindi una partita molto combattuta vede il Villabiagio uscire sconfitto dall'Angelana per 2 a 1. Mister Guastelvino, prima sconfitta in casa. Come la giustifichi? Una sconfitta amara perché pur non avendo giocato bene abbiamo avuto la possibilità di andare sul 2 a 0. Dopo un episodio del rigore e poi l'ultimo gol nel 94esimo non lo so. Però sicuramente ci dobbiamo guardare in faccia e capire quello che non va. Segnarà a prendere decisioni, vedremo quello che sarà. Adesso la notte porterà a pensiero ma sicuramente loro è una buona squadra. Noi c'è qualcosa che non va, qualcosa che abbiamo perso. Ormai sono qualche partita che non giochiamo neanche bene. Quindi dovremmo fare una chiacchierata e capire quali sono le motivazioni per cercare di non mollare niente fino alla fine, anche se ormai sarà impossibile. Però finché sia vita ci crediamo. L'importante è chiarire e capire quelle che sono le difficoltà attuali della squadra. Mister Montecucco, complimenti per la bella vittoria. Una bella partita da parte dell'Angelana. Sì, oggi se perdevamo, a un certo punto abbiamo rischiato di prendere il secondo gol. Era veramente dura da digerire perché abbiamo fatto, credo, una delle migliori partite di quest'anno. Ma di fuori tutto oggi ci tengo a fare complimenti alla squadra perché domenica scorsa li ho un po' attaccati per l'atteggiamento. Oggi sono stati veramente bravi sia da un punto di vista tattico sia soprattutto per la voglia che c'era di vincere la partita. Ci siamo riusciti e siamo veramente contenti. Sì, ho visto. Sì, ho visto.